E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i cattori, all'esterno della nostra madre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Il secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo, Padre nostro che sei nel cielo, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù come si dice? il metano numero 7 quando mi mettono la parola? no, 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 quello è normale il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e tu hai il frutto del tuo seno Gesù vabbè, quindi c'è da meno 4 pare va bene quello è normale grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia Ave Maria piena di grazia e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù regina della pace regina della pace regina della pace Grazie. 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 Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo chiusi in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, come il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. L'odato sempre sia Gesù, che perdona le nostre voce che è la scelta fuori del inferno oltre il cielo e le mani e le scelte di scelta e le scelte di scelta e le scelte di scelta Regina della pace Grazie a tutti Nel quinto mistero della gloria si contempla l'incoronazione di Maria Santissima Regina del cielo e della terra Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra Lasci oggi il nostro padre e lo dirà venite a noi i nostri diritti un cuore in noi che viviamo i nostri territori Ave Maria piena di grazia il Signore è conteso tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per la mercatoria Grazie a tutti grazie a tutti Grazie.